C'è ancora tanto da lavorare, tra uscite e qualche entrata da completare, in Casavellino la triade continua ad operare sul mercato. A quanto pare, nelle prossime ore potrebbe esserci l'assalto decisivo del Pescara Michele Marconi. Dagli ambienti vicini ai Biancazzurri, filtra ottimismo con la squadra abruzzese che è pronta a far firmare al centroavanti ex Alessandria e Pisa un contratto biennale. La Riete potrebbe trasferirsi nel GnB raggiungendo Erasmo Moulin, anche se nemmeno il Guidonia molla. Per Giacomo Dall'Oglio è sempre duello Pescara-Pinetto, Loressa Varela è nel mirino di Gubbio e Piacenza, mentre ad oggi la posizione più difficile è quella di Diago Cionec, che non ha ancora proposte. Manueliano è vicinissimo al Taranto, dove andrà molto probabilmente con la formula del prestito. Nel frattempo la società parlerà con Daniel Sannipoli, calciatore che ieri ha giocato al posto di Tribuzzi, non ha convinto e potrebbe partire nuovamente. Su di lui è fortissimo l'interesse della Cavese, che già aveva preso informazioni nelle scorse settimane. L'obiettivo, nonostante le smentite, resta Andrea Cisco del Sud di Rolex, Pescara e Virtus Francavilla. Nella passata stagione, per il calciatore su cui c'è forte l'interesse dell'Arezzo, 19 presenze in cadetteria. Si lavora sempre a ritmi serrati per Patrick Ricci, il difensore del Taranto, che piacerebbe anche al Trapani. Resta il principale obiettivo di Perinetti e Condu per la difesa.